L'estero, quindi credo sia davvero soddisfatto lo staff di Giuseppe Rossi e tutto lo staff della Filimentara Tombaic, più di 100 tra esordienti allievi maschi e femmini alle ore 15. No, tolte anche la gara, la categoria giovanile. Quest'anno, a differenza degli altri anni, non c'è lo spazio riservato all'attività paralimpica. Tu sai benissimo Moreno che negli ultimi anni Spilimbergo, Trivium, è stato glissato questo appuntamento chissà che possa ritornare in futuro questa manifestazione tricolore. Però tu hai detto campionato, ieri sera questa domanda l'abbiamo fatto. Quanto era reale questa loro risposta, quanto erano sincere? Esatto, 2018, ormai l'anticipato, diciamo, grande evento più a Spilimbergo, diciamo che se lo mettano ragazzi. Chris Ilias, che è l'attretta ellenico, stato campione del mondo marato, che sicuramente poi conosceremo domani. Sì, 2018, campionato europeo. Infatti, però è in 2018, confermato, ufficializzato, la TILLE di Marathon Bar, assieme alle mani continentali di specialità. Il circuito fa parte anche di altri circuiti internazionali, l'Alpe Tugue, l'Alpe Africa Cup, e un po' di un po' di circuiti, eccetera, eccetera. E, tra l'altro, adesso, volevo salutare anche i ragazzi della Bagno Corso. Sì, sì, sarà più appena. Degli 3 chilometri, 4 cento metri, questo di suono, a Puglia, 2016. Puglia, premonte. Andremo a Puglia, la Puglia, la Puglia, e poi il Salatandau. Il Salatandau. Allora, signore e signori, bravo che c'è la brava del pubblico, nel centro di Sviglietta, con la TILLE 5, provociando Luca Sviglietta e Catona. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Come on, guys! Sì, da 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vai, Michele, bravo! Voi, Michele, grazie! Bravo, Michele! Dai! Dai, Michele! Dai, Michele! Dai, Cristra! Dai! Dai, Goku! Ero un centinaio di metri da piazza Garibaldi, lo show di Pol, perché non lo faccio mai parlare. Sì? Consigliere! Della regione Trini Venezia Giulia, del mio particolare, vi siamo vicini anche domani a quella che è una manifestazione che ripeto sta crescendo, sta diventando sicurezza. Vincitrice della gara femminile, esordinti, femmine, della James, vai, team, buia, l'applauso per Alice Popo! A premiarla è il consigliere della regione Prioli Venezia Giulia, Armando Zecchinon, l'applauso del pubblico e thank you girls! Grazie ragazze, grazie! L'assessore allo sport di Ispirin Bergo Enrico Sarcinelli è pronto a premiare il vincitore della gara riservata dalla categoria esordinti primo anno, gradino più alto nel podio per il portacolori cycling team Prioli, Daniela Scarni! Mentre procediamo con la premiazione, ricordo alla società acidolattico team, team Belosiraptors e ovviamente gli atleti di casa Tribium, di non andare via perché poi premieremo anche le squadre più numerose della pedalata ecologica. L'assessore allo sport, il signor Enrico Sarcinelli, il sessore all'accordo comune di Ispirin Bergo consegna la medaglia, l'argento al secondo classificato sul gradino, più alto nel podio della categoria esordinti. Inizia però durante la sfidata per l'edizione di Bistini, per Marlof 2016 sorrideva, sorrideva. E' premiata dall'assessore allo sport di Ispirin Bergo, Enrico Sarcinelli. Sara Cuticio e d'Alessia Nespa, la salone protagonista della gara. Quarto classificato, sempre del team James Bay, team Buia, Tommaso Bercagna! Siamo al podio per quanto riguarda gli alimenti del primo anno, terzo della Libertas Ceresetto, Nicolás Caruzzi! Secondo classificato della GS Tony 2004, Michele Chiantussi! Michele Michele! Lui arriva dal Nittestein, ma la tessera della Svizzera, però so che anche di Spillin Bergo è internazionale a tutti gli effetti. L'applauso per la Stöckle MTB, Loris Dalforra! Vincitore assoluto, è un allievo primo anno, ma è vincitore assoluto dell'Attenement Junior 2016. E' premiato dal consigliere della regione Priuli Venezia Giulia, Armando Zeppinote. Quinto classificato, il portacolori della Libertas Cereso! Quarto classificato, il portacolori della ciclisti Euromelo, Aaron Royas! Terzo gradino del podio per il portacolori della James Bay, team Buia! Manuel Feliceo! Secondo gradino del podio per il portacolori della Capri Vessi, Daniele Azzano! Speriamo che arrivi, team Marco Zanetti! Giuri, Giuri, giù la musica un attimo, giù la musica, perché Fabio deve dire una cosa importante. Però sul podio, dovete salire sul podio. Al mio tre, uno, due e tre! Wow wow wow! Ti puoi ritirare dall'antipo!